C'è stato il primo tempo, secondo me se andavamo in vantaggio non abbiamo rubato nulla perché abbiamo avuto sia la traversa e altre palle limpide pulite e quindi se finivamo 1-0 il primo tempo appunto era tutta altra partita. Poi purtroppo ci sta un po' di calo al secondo tempo perché facendo quei ritmi lì che abbiamo fatto il primo tempo è stato davvero un primo tempo secondo me importante. Dobbiamo migliorare appunto su quello perché non è possibile entrare con quei dieci minuti perché alla fine sono stati dieci minuti iniziali, un po' così, però naturalmente lavoreremo per cancellare anche questi dieci minuti al secondo tempo. Però sinceramente per la prestazione di squadra sono soddisfatto perché c'è stata la voglia di vincerla. Si è visto pure alla fine il palo che magari un pizzico di fortuna andava addosso di nuovo a Gennaro e avremmo fatto gol. Pure quella purtroppo è mancata e ripartiamo, prendiamo una cosa positiva che è appunto un punto per continuare la continuità.